Mister Juric è stato ammonito con diffida per avere al 29esimo del secondo tempo, nell'incontro giocato a Chiavari con la Virtus Santella, contestato platealmente una decisione arbitrale. L'infrazione è stata rilevata dal quarto ufficiale, quindi alla ripresa del campionato, quando si giocherà con il Cagliari, nel posticipo delle 20.30, fissato per lunedì 18 gennaio, potrà seguire l'incontro in panchina. Intanto a Bari per sostituire Nicola si punta su Pippo Inzaghi, potrebbe infatti essere l'ex tecnico milanista il sostituto designato. Questa almeno l'idea del presidente Paparesta che dopo la terza sconfitta consecutiva dei suoi, la quarta, nelle ultime cinque giornate, vista anche la difficile situazione ambientale, avrebbe deciso di non puntare più su Nicola per affidare la squadra ad una nuova guida tecnica. Ma stanno circolando anche altri nomi, come quello di Camplone, quello di Corrini e quello di Diego Lopez. Lunedì 11 gennaio alle 9, presso l'hotel NH Vittorio Veneto di Roma, si terrà l'udienza del Tribunale federale nazionale relativa ai deferimenti della Procura federale, a carico di 29 società di serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti e 52 soggetti riconducibili alle società in questione. I deferimenti riguardano l'inchiesta denominata Dirt Soccer sul calcio scommesse, avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Il club velico di Crotone pronto ad ospitare le veliste che si contenderanno la partecipazione alle prossime Olimpiadi. Si prospetta un 2016 eccezionale, siamo alla fine del 2015, però quello che bolle in pentola, uso questo termine, è veramente qualcosa di eccezionale. Sì, questo incontro serviva proprio a questo, per anticipare cosa bolle in pentola, per dire che sarà un inizio del 2016 col botto o a gonfie vele, come è stato suggerito. Perché il 2 gennaio arrivano gli atleti austriaci per allenarsi qui al caldo e poi dopo di loro sarà Crotone la nazionale olimpica femminile della classe laser. In questo momento sono quattro le atlete che si stanno contendendo un posto a Rio, le quattro atlete verranno qua ad allenarsi, l'un contro l'altra armata evidentemente perché c'è un solo posto per quattro, ma è molto bello che questa sfida olimpica tutta italiana passi da qua. Le ragazze staranno sette giorni in acqua con i nostri atleti e quindi i nostri atleti avranno la possibilità di prepararsi con timonieri di questo livello, anzi con timoniere di questo livello, in un abbraccio sportivo che consolida, se ce ne fosse bisogno, ormai la reputazione di Crotone come città della vela. Le chiedo subito, il piacere di avere la sua presenza oggi qui in questa presentazione importantissima del club velico, a che cosa la riconduciamo? Ha sicuramente una grande effettività per la famiglia mia che rimane qui, dalla quale sono partito via 50 anni fa. Poi sicuramente anche l'indicazione attraverso la quale l'iniziativa dà retta, dà motivo ai giovani di impegnarsi in qualcosa che può davvero portare a un livello alto di competenza. Per quanto riguarda la vela in sé, credo che sia uno sport nel quale la misura della propria personalità si identifica proprio con quello che si fa. Sembra impossibile che un ragazzino di 10 anni riesca a dominare un vento fortissimo, se riesce a girare la vela come è giusto che sia, addirittura lo sfrutta. È un po' come nella vita, utilizzando le proprie risorse così come è necessario che sia, molto spesso si raggiungono traguardi che sembrano imprendibili. Ancora Crotone al centro dell'attenzione e ne stavamo discutendo di questo con Francesco Verri. FC Crotone Club Veli con un'accoppiata veramente vincente che porterà la nostra città al massimo. Beh sì, sicuramente in questo momento diciamo che sono le due punti di diamante di tutto lo sport, ma anche gli altri stanno facendo bene. Non a caso ormai Crotone è stata battezzata come città dello sport. Io penso che Francesco sta facendo veramente un lavoro eccezionale. In tre anni ha dato anche la spinta a tante altre società sportive che Crotone effettivamente si può mettere nelle condizioni di organizzare manifestazioni di un certo livello. L'abbiamo visto quest'anno, il 2015 è stato ricco di tantissimi eventi e anche a livelli nazionali. Loro addirittura nel 2016 si sono spinti con un campionato europeo, quindi vuol dire che Crotone ormai sta decollando sotto questo aspetto. Sicuramente un plauso da parte nostra va alle società sportive, all'organizzatore, ma il comune c'è, è presente, l'abbiamo dimostrato già nel 2015 e ci vogliamo essere anche nel 2016. Concludo con il botto FC Crotone e Club Veli. Questa è una bella combinata, siamo i partner dell'Iceo Scientifico Sportivo insieme. Siamo amici con Raffaele e Gianni Vrenna, ci siamo ispirati molto a loro e quindi viviamo core a core questa loro avventura, come loro vivono da vicino la nostra e ci saranno molte opportunità per stare insieme nel 2016. Grazie a tutti.